Ah, presi! Adesso chi comanda qui? Eccà! Madonna! Benvenuti! Questa è la mandragola! Il suo pianto è... Ho bisogno che tu raccolga almeno tre mandragole Naturalmente più mandragole raccoglierà Arias? Cosa? Parla, Hermione! Guarda! Le lumache giganti stanno attaccando quella mandragola! Chi... Buona... Incendio! Incendio! Vingardium Leviosa! Incendio! 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 Vingardium Leviosa! Incendio! 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 Vingardium Leviosa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.